Buongiorno, oggi il Fato vi ha condotti in un luogo misterioso. Scopriamo se riuscirete a fuggire. Ehm, apriti il sesamo? Va bene? Ehi, è un marchigegno. Forse. E questo è giunto. Devo entrare. Cerco di vedere qualcosa. Sono a secco. Andate avanti abbastanza. Scopri il posto che gli appartieni. Ci sarà da divertirsi. Per me, almeno. Potete cercare un'altra strada o forzare la serratura. Fate con calma, non ho fretta. Fate con calma. Ok! Ok! Questo lo chiamo... ...quì, forse è un oggetto chiaro. Ma perché tutta questa fretta? Fate pure con K. Sapete che abbiamo creato tutto per provocarvi. Non pensavamo che ci sareste cascati. Ti presento? Mordicchio! Sai, ad ora mordere. Interessante. Lo ammetto, non mi aspettavo di finire tutto così presto. Complimenti! Vediamo quant'altra strada farete. Non fate altro che correre, ma vi ho fatto un favore. Guardate che posto magnifico. Sentite l'aroma delle rose soledamente. Chiudetevi questo momento finché siamo insieme. Settacolo! Settacolo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un po' più facile. Rendiamo il tutto un po' più difficile, ok? Prendete la sua tessera e scoprite che cosa ho in servo per voi. Il destino è iniluttabile. E' un po' più facile. Ecco qualche amico con cui giocare. Ecco il generale Scranocchio. Porca d'aria, rompendo. Questo lo chiamo sbrodolone perché è sempre ricoperto di sangue. E' un po' più facile. Ma perché tutte queste cazzo di porte? Odio avere gli... Non male, ma non sperate di salvarvi tutti. Quanta fretta. Dobbiamo ancora divertirci un po' qui. E' un po' più facile. E' un po' più facile. E' un po' più facile. E' un po' più preciso. Sì, senti. una brutale arma per questo gioco bella mossa bella mossa si è così ti ringrazio qui forza no non muovetevi fermi vai così vai così no fermi diamo un'occhiata eh mia figlia a quante morte servono munizioni prendi questa passera tutto passa col tempo non prova dolore la macchina perfetta per questa imposta ehi sei tra noi sei incredibile deve esserci qualcosa di utile non 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 niente paura ti copro io cappello e sopravvito sarà una morte stilosissima grazie mille grazie mille bella mossa bella mossa bella mossa vai così bella mossa 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 oh grazie mossa hai scocitato tutto meraviglioso Lo amico, ammiro la vostra determinazione nel distruggere le cose, ma non avete speranza. Arrendetevi. Questo è un tizio morto. Non lo sapete fare meglio di così. General Sgranocchi. Non lo sapete fare meglio di così. Questo è uno zombie Non è affatto un bel modo per mettere fine alle vostre diritte Ma... Perfetto! Grazie mille! Raduniamo sicuramente! Il virus della dottoressa Wesker non funziona su voi Perché siete lenti! Adoro distruggere tutto Ma adesso mi avete rotto il cazzo! La civiltà reclama la vostra morte e voi vi opponete Perché non c'è motivo per resistere!